Buonasera a tutti e benvenuti anche questa sera all'incontro digitale in Sala Europa nel Consolato Generale d'Italia a Francoforte. Questa sera abbiamo come ospite il critico musicale Stefano Nardelli del Giornale della Musica, che è qui con noi questa sera, ospite del ciclo Dante l'Italia, l'Italia di Dante, un ciclo che abbiamo inaugurato per il settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta e che questa sera ci permetterà di entrare in un tema abbastanza particolare, in un formato di una lezione intervista. Il titolo di questa serata è Dante in Musica, un excursus attraverso le opere degli innumerevoli compositori che nel corso dei secoli hanno tratto ispirazione dai versi danteschi. Dai madrigalisti cinquecenteschi fino al rock di Gianna Nannini e alla musica contemporanea. In definitiva il critico musicale Stefano Nardelli ci accompagnerà in questa passeggiata interessantissima. Insieme alla collega Maria Cristina Belloni, l'intervista prevede come sempre una prima parte con una serie di domande che noi porremo al giornalista Nardelli per poi aprire la seconda parte con le domande del pubblico. Do adesso la parola alla collega Maria Cristina, che è la vostra regista delle parti tecniche, per come sempre gli avvertimenti e le segnalazioni al pubblico presente. Allora, buonasera a tutti. Chi appunto ha già partecipato ai nostri eventi lo sa, queste videoconferenze, lezioni, interviste vengono registrate perché dopo qualche giorno vengono messe a disposizione sul nostro canale YouTube Italy in FFM. Quindi chiedo accortesemente a tutti di spegnere il microfono mentre parla appunto il relatore nella prima parte perché siccome saremo in modalità visto oratore, chi parla con il microfono aperto praticamente entra sulla presentazione. Naturalmente se non volete comparire in video, spegnete anche la videocamera perché appunto la serata viene... Vi do un'altra comunicazione tecnica, ovvero durante questa presentazione ascolteremo anche dei brani musicali, abbiamo dei link che dobbiamo attivare. Ci vorrà qualche secondo di tempo perché dobbiamo passare appunto tecnicamente dalla presentazione di cui state vedendo ora la schermata del titolo al link e ottimizzare in modo che possiate ascoltare anche la musica e vedere anche il video. Perciò vi chiedo quando appunto faremo partire il link di avere qualche secondo di pazienza in modo che possiamo fare questo adeguamento dal punto di vista tecnico che consume necessario. Basta, io credo che non ci sia altro da aggiungere e vi auguro naturalmente buon ascolto. Bene, allora riprendiamo con questa parte salutando adesso veramente il nostro ospite. Buonasera Stefano Nardelli. Buonasera e grazie per l'invita. Grazie di essere qui veramente con noi. Prima di iniziare con la prima domanda vorrei presentare brevemente il nostro relatore. Stefano Nardelli è un giornalista e critico musicale italiano interessato in particolare al teatro musicale del ventesimo secolo e contemporaneo. Vanta una lunga collaborazione con la rivista musicale italiana Il Giornale della Musica e scrive occasionalmente anche per Open Belt e altre riviste musicali. È anche autore di saggi per teatri d'opera in Italia e in Germania e di note di copertina anche di cd. che vive tra Francoforte e Germania e forse questa sera mi pare che sia a Venezia in Italia, vero? Vero, vero. E allora possiamo... Sono Francoforte qualche mese fa. Allora possiamo iniziare con la prima domanda. Certo, prego. Saremo molto colloquiali e quindi ci daremo del tu. Tu hai scritto se nell'inferno la musica è pressoché assente, la musica si fa invece più presente nell'ascesa lungo i sentieri del purgatorio e soprattutto nei cieli estatici del paradiso. Che rapporto c'è stato tra Dante e la musica nel corso dei secoli? Allora, fatemi dire prima di tutto che la citazione che hai appena utilizzato viene da un lunghissimo articolo, troppo lungo probabilmente, articolo che poi è stato diviso in tre parti, pubblicato nel giornale della musica, credo gennaio, se non ricordo male, in coincidenza con l'anno, diciamo così, con l'anno, con i 700 anni della morte di Dante, che ovviamente cadono quest'anno. Per arrivare poi lentamente alla vostra domanda, mi piace dire un paio di cose. Allora, prima questione, ci sono diversi modi per parlare di Dante e la musica, chiaramente. L'articolo che ho scritto non tratta della concezione musicale di Dante, ma soprattutto di come la Divina Commedia in particolare, ma non solo, è diventata fonte di ispirazione per numerosissimi musicisti da partire più o meno dal Cinquecento, comunque il Cinquecento è, diciamo, l'epoca nella quale la musica è documentata, abbiamo comunque la documentazione, partitura e scritti, sono arrivati fino a noi. e quello sostanzialmente copre il discorso su Dante e la musica. Ovviamente con tutte le composizioni coperte nell'articolo Dante c'entra poco, nel senso che Dante c'entra come fonte di ispirazione, ma ovviamente non come parte attiva nelle composizioni, evidentemente. Prima di parlare di questo però mi piace dire alcune cose che riguardano la musica nella Divina Commedia. La prima è un numero, o alcuni numeri se preferite, che riguardano quante volte la parola musica è citata nella Divina Commedia. Nessuna. Cioè la parola musica non compare mai. dal che uno si potrebbe chiedere perché allora porsi la domanda, e c'è una ricca saggistica comunque sulla musica e Dante, perché porci questo problema. Questo è il numero che vi ho dato, cioè quante volte la parola musica compare. Quanti musicisti ci sono nella Commedia? I musicisti sono due, li vedete, ho preso alcuni versi danteschi per, semplicemente per richiamare queste due figure. La prima è quella di Casella. Casella era un musico e cantore toscano molto apprezzato da Dante, soprattutto suo grande amico. Dante lo trova, cioè trova Casella, tra le anime dei penitenti all'inizio del purgatorio. e lo riconosce, Dante riconosce Casella, e lo prega di cantare per lui. Casella canterà un sonetto dantesco, Amor che nella mente mi ragiona, il quale sonetto viene spiegato da Dante in realtà nel convivio. C'era la slide precedente, adesso parlando cambio l'ordine. Ma ne parliamo dopo, comunque vediamo. Possiamo passare alla slide successiva, così parliamo anche del secondo personaggio, che è il secondo musicista, diciamo così, professionista, che Dante incontra anche lui nel purgatorio, un po' più avanti, diciamo, tra le anime del secondo balzo, del secondo cerchio, diciamo, della montagna del purgatorio. e si tratta di Sordello d'Agoito. Probabilmente non tutti si ricordano chi è, Sordello era uno dei più celebri trovatori italiani, nato, come dice il nome Agoito, città presso Mantua, e in questo caso non è Dante a essere amico, comunque rivolgersi a lui, ma è lo stesso Sordello a riconoscere in qualche modo un legame col mantovano Virgilio. Quel che si tende a ricordare di più ovviamente non è tanto il personaggio quanto la famosa invettiva ai servetagli del loro stello pronunciata da Dante, o scritta da Dante nella commedia, a proposito del fatto che l'Italia una volta di più, e sicuramente all'epoca di Dante, era molto divisa, molto conflittuale. Questo per quanto riguarda, diciamo così, una caratterizzazione della musica nella commedia. C'è di più ovviamente e occorre rifarsi alla filosofia che in qualche modo dominava gli anni di Dante, alla quale Dante è la filosofia scolastica, voglio dire, alla quale Dante comunque faceva riferimento, ha fatto riferimento in quanto uomo del Trecento. Dante, dicevo, non scrive musica, quantomeno, scrive molto di musica, ma nella commedia, ma mi piace dare una citazione nella quale parla in effetti in maniera molto esplicita di musica, e la descrive come la musica trae a sé gli spiriti umani che quasi sono principalmente vapori del cuore. Cioè Dante attribuisce in qualche modo una valenza sentimentale, se volete, un impatto comunque emotivo alla musica, laddove la musica nell'insegnamento, nella filosofia scolastica in generale, era attribuita in effetti alla sfera scientifica, cioè alle arti del quadrivio, assieme a ritmetica, geometria ed astronomia. A proposito di questo, e per richiamarci alla citazione che avete dato nella vostra domanda, è interessante notare che in effetti nella commedia, è vero, e una volta di più lo dico, che la parola musica non compare, ma di musica ce n'è moltissima. Passerei alla slide questa, bellissima, e in qualche modo si rifà al numero tre. Ho scelto io, ovviamente, il numero tre, ma il numero tre perché è un numero che ritorna moltissimo, e non soltanto nella commedia, ed è comunque una cifra, un numero che fa capire quanto Dante in qualche modo ha mediato la sua cultura e la trasferisce, la sua cultura anche musicale, e la trasferisce nella struttura stessa della sua opera principale, la linea commedia. Sono cento canti, in realtà, direte, non è un multiplo di tre, ma ovviamente se togliete l'introduzione arriviamo a 99, sono tre le cantiche, organizzati in 33 canti, Inferno, Purgatore e Paradiso, la struttura stessa della commedia è a tre versi, cioè terzine e decasillavi, non soltanto, ma se poi analizzate il contenuto della Divina Commedia, il tre compare in un numero sterminato di situazioni. Già all'inizio Dante incontra la selva oscura, incontra tre bestie, e tre tre fiere, la lonza, il leone e la lupa, attraversa tre regni, a cominciare dall'inferno, poi il paradiso, e poi il purgatorio, e quindi il paradiso. Nel suo viaggio sarà accompagnato da tre guide, Virgilio lo accompagnerà fino alla soglia del paradiso, prima probabilmente, dopodiché Beatrice ne prende la funzione di guida di Dante, e finalmente per l'Empire o per gli ultimi cieli nei quali si assiste alla divinità, San Bernardo prende il posto di Beatrice. E così via. Ora, perché il numero tre? Il numero tre ritorna spesso nella filosofia, nel pensiero, diciamo, dell'epoca di Dante, e non solo, è molto prima, ma in particolare, e qui arriva la musica, di nuovo, il numero tre si trova nella classificazione che Severino Boezio dette delle tipologie di musica conosciute. Allora, la prima è, secondo Boezio, la musica instrumentalis, cioè la musica prodotta dagli strumenti. È la musica più bassa, diciamo così. Non è una musica, diciamo, umana, non è nemmeno una musica divina. È una musica prodotta da strumenti, da oggetti. La seconda categoria, alla quale faceva riferimento Severino Boezio, è la musica umana, cioè una musica che riflette un'armonia interiore dell'uomo e in qualche modo allude alla musica dell'anima. Si esprime questa musica attraverso la voce, o comunque attraverso il corpo, il corpo umano. Infine, c'è la musica mundana, che non ha a che fare con il mondo, ma ha piuttosto a che fare con l'armonia delle sfere celesti. Cioè, è una musica ultraterrena, non necessariamente o comunque non percettibile dagli umani e è una musica prodotta dall'armonia dei corpi celesti. È qualche cosa che sfugge alla mente umana, ma è qualche cosa che regola il funzionamento nel suo complesso dell'universo. Ora, perché cito questa classificazione, perché in effetti, e credo possiamo passare al prossimo slide, in effetti si ritrova questa classificazione in qualche modo, non direttamente, chiaramente non c'è un richiamo immediato nella commedia di questa classificazione, ma di fatto i suoni, la musica che si percepisce nelle tre canti che fanno riferimento a questa classificazione. Ora, a cominciare dall'inferno, più che di musica, probabilmente si trova a parlare di suoni e di suoni anche sgradevoli. Questo è un... sono due terzine prese dal terzo canto dell'inferno. Dante si trova nell'anti-inferno che non è ancora entrato nel vivo del suo viaggio, comunque all'interno dell'inferno, ma sente dei suoni. Questa è la prima musica, diciamo così, musica ovviamente tra virgolette, è la prima musica che arriva all'orecchio di Dante dall'inferno. Che cosa sente Dante? Lo leggete, qui vi sospiri, pianti ed alti guai, cioè lamenti, risuonavano per l'aere senza stelle. Perché io al cominciare nei lagrimai, cioè di nuovo questa musica, per così dire, questi suoni ai limiti dell'umano, prodotti evidentemente dalle anime dannate, quindi da uomini o da entità, insomma, che comunque sono stati uomini in vita, producono un forte impatto emotivo in Dante. diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte fiocche e suon di man conelle. Questo è il paesaggio sonoro che si presenta a Dante. È un paesaggio di suoni sgradevoli e in qualche modo che, come dirà, hanno un impatto forte sull'emotività di Dante. È l'unica musica dell'inferno, poi vedremo come prosegue e la faccenda, non proprio. Se avete in mente ho richiamato musica instrumentalis, cioè, secondo la classificazione di poezio, la musica, cioè, prodotta da strumenti. Citerò molto rapidamente la famosa trombetta che ha divertito generazioni di studenti alle scuole superiori e invece passo all'altro esempio, trombetta, comunque, evidentemente è uno strumento musicale, molto noto, e comunque noto anche in tempi di Dante, e invece vado, scendiamo in profondità, dieci canti più giù, cioè, scendiamo nel canto 31, cioè nel passaggio in cui Dante incontra i giganti responsabili, diciamo così, della costruzione della torre di Babele. Uno di questi, i giganti si trovano in un pozzo, si sporgono a metà, diciamo, dal busto in su, uno di questi, che è il gigante Nembroth, si rivolge a Dante e la sua guida, cioè Virgilio, con delle parole incomprensibili, Raffel Ma'i Ameke Zabi Almi. Che cosa vuol dire? Non vuol dire niente. Questo è uno dei giganti che si è macchiato di un atto di arroganza nei confronti della divinità, costruendo, o tentando di costruire la torre di Babele. e la punizione divina, a parte la distruzione della torre, consiste anche nel moltiplicare le lingue, comunque nel fare in modo che coloro che partecipano alla costruzione della torre non capiscano più che cosa stanno dicendo l'un altro. E questo, in questo verso, c'è quest'idea. Ma più interessante, per tornare al discorso della musica, viene nella seconda, nella seconda terzina, quando il Ducca mio, cioè Virgilio, per lui, anima sciocca, tienti col corno e con quel ti disfoga, quando dire o altra passione ti tocca. Cioè, smetti di parlare e se ti viene voglia di esprimerti, utilizza il corno. Di nuovo, non utilizzare una lingua umana, stiamo all'inferno e tra l'altro siamo molto giù, siamo quasi a Lucifero, molto vicini al demonio massimo, così dire, ed esprimiti con uno strumento, cioè con la forma più bassa della musica nota ai tempi di Dante. Se procediamo, sopperiamo l'inferno e arriviamo quindi al purgatorio, troviamo, nel purgatorio, troviamo moltissimi esempi di quella che, secondo Boezio, è la musica umana, cioè la musica che si esprime attraverso il canto, il canto comunque attraverso la voce. Nel purgatorio, domina, il paesaggio sonoro cambia completamente, non ci sono più questi rumori e questi suoni sgraziati, prodotti da lamenti, schiaffi, eccetera, ma si sentono salmi. Cioè Dante e Virgilio ascoltano immediatamente, già nel secondo canto del purgatorio, si sente intonare un salmo ed è citato esplicitamente, il chitolo biblico, in exito Israel ed Egitto. Cioè un canto intonato, nella Bibbia evidentemente, dal popolo ebraico, dal popolo d'Israele, insomma, che si libera dalla schiavitù in Egitto ed è il canto che le anime accompagnate dall'angelo nocchiero, l'angelo nocchiero è l'angelo incaricato di trasportare le anime salve, salvate, dal luogo dove si riteneva si riunissero, cioè le foce del Tevere, alla montagna, ai piedi della montagna del Paradiso. Su questa barca le anime che dovranno purificarsi per accedere al Paradiso, le anime cantano un salmo e non sarà l'unico salmo, nel senso che ne ho sparsi un po' in questa slide come venite, come vedete, se ne cantano diversi per tutto il per tutto il purgatorio. Sono preghiere, sono le preghiere, le anime del purgatorio pregano, pregano in continuazione, tutti pregano per purificarsi e quindi accedere al livello superiore, cioè al Paradiso. Se procediamo, vedo che sto già allungando un po', arriviamo ovviamente al Paradiso. Il Paradiso è il regno dell'armonia ed è soprattutto, dal punto di vista della musica, è il regno della musica prodotta dall'armonia delle sfere celesti, cioè è una musica non più umana in nessun modo, né instrumentalis, né umana, ma è una musica mondana, quella che si ascolta. E non soltanto si ascolta, ma come leggete in queste due terzine, che provengono comunque dal 27esimo canto del Paradiso, quindi Dante è quasi alla fine del suo viaggio, del suo lungo viaggio, la cosa interessante che mi piace dire, sottolineare, è, soprattutto se vedete la seconda parte, anzi, leggiamola tutta, il padre, il figlio, allo Spirito Santo cominciò gloria, tutto il Paradiso, si che mi inebriava il dolce canto, cioè l'impressione Dante sente probabilmente e viene investito da questa specie di gioia che inebria il suo spirito. Più interessante è la seconda terzina nella quale dice ciò che io vedeva mi sembrava un riso dell'universo e già come vedete utilizza un verbo che è vedere un riso dell'universo, cioè lui vede ma sente un suono perché mia ebbrezza entrava per l'udire e per l'ovisa, cioè non è una musica come ho detto umana, non è una musica che passa per la bocca ed entra nelle orecchie per usare un'immagine molto concreta, ma è una musica che è un'esperienza sinestetica, cioè una musica che va al di là del puro fatto fisico del sentire ma che entra in qualche modo nel corpo di Dante in questo caso dell'essere umano. Come vedete l'ho definita musica mundana però questo è esattamente il senso della musica del paradiso, cioè una musica che trascende i sensi e in qualche modo li investe tutti, non soltanto non soltanto l'esperienza dell'ascolto, dell'udire. Proseguendo, arrivando poi negli ultimi cerchi nell'Empireo, si arriva addirittura all'assenza di musica che non è mancanza di musica, cioè non è silenzio voglio dire, ma è la perfezione che l'olecchio umano che è imperfetto ovviamente in quanto umano non può comprendere o non può capire diciamo con mezzi razionali ma in qualche modo viene afferrata dal puro spirito, è un'esperienza spirituale sostanzialmente. Questo è. Questo come preambolo sulla musica nella commedia e passo alla seconda domanda, prego. Infatti, passiamo alla seconda domanda e dopo la musica nella commedia chiediamo di parlarci della musica dalla commedia. che rapporto c'è stato tra Dante e la musica nel corso dei secoli? Cosa del poema dantesco ha interessato o ispirato maggiormente i compositori? Forse magari possiamo far ascoltare Allora No dobbiamo andare su un'altra condivisione e mi dovete dare un attimo mettiamo il schermo intero di un'altra Grazie a tutti 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 Scott Scott Grazie a tutti 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 Grazie a tutti